Salve a tutti, come state? Questa sera parleremo di un argomento che colpisce tante donne, tante donne e spesso anche ragazze e che colpì anche me, anzi mi investì e parliamo di riserva ovarica ridotta. Anche perché quando scopriamo questo fattore ci infiliamo in un turbine di paure, tante, molteplici e poi c'è la regina di tutte le paure, ovvero la menopausa. Perché? Perché che significa per noi la menopausa? Significa non riuscire a diventare madri grazie ai nostri gameti, quindi lì si innesca il mondo e lo sappiamo bene. Ma che correlazione c'è realmente tra la riserva ovarica ridotta e la menopausa precoce? Ne parliamo con la dottoressa Benigna, eccola qui. Ce l'abbiamo, quasi. Ora la prendo. La recluto di nuova. Eccola. Ciao Loredana. Dottoressa Michela, come stai? Tutto bene, tutto bene. Tu? Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Allora, stiamo parlando dell'argomento che fa più paura tra le donne che mi seguono. Che succede? Quanto si deve allarmare una donna quando scopre di avere una riserva ovarica ridotta? Io ad esempio a 34 anni scoprì di avere 0,5. Ok. Quindi ho abbastanza capito che la storia era tragica. La storia da raccontare non era proprio una passeggiata di salute. Ci sono tutt'ora, tutt'oggi, delle ragazze che mi scrivono. Io, proprio prima, mi ha scritto una ragazza a 39 anni, 0,36, ha senso continuare con l'omologa. Io, ovviamente, non essendo un medico, una ginecologa, mi guardo bene da non dare consigli. Però, come mai c'è ancora tutta questa confusione? Voi, medici, quando avete dei numeri, iniziate a consigliare qualcosa? Come funziona? Ci sono delle linee guida per questo? No. La connessione. No. Che succede? Che sta succedendo? Ci sono, ci sono, ci sono. Allora, ho sentito la domanda nel frattempo, tranquilla. Allora, il discorso essenziale è uno distinguere quello che è una riserva avarica da quello che è lo stato della menopausa. La riserva avarica serve a noi che ci occupiamo della medicina e della riproduzione per capire se ha un senso logico. Eseguire una stimolazione avarica per ottenere naturalmente degli embrioni che devono essere di buona qualità e naturalmente per poi dare buone chance di gravidanza. Però non è che l'ormone antimulleriano in particolar modo che è quello, il parametro che si identifica come il parametro ematochimico della riserva avarica indica che stiamo andando in menopausa. Ci predice il tempo di scadenza prima di arrivare allo stato reale della menopausa. Come dicevi tu e come già avevamo detto in altre occasioni, un valore basso di antimulleriano deve essere sempre messo in correlazione con quella che è l'età anagrafica della donna. È chiaro che una ridotta riserva avarica a 34, 35, 36 anni non mi esclude a priori di fare un tentativo di fecondazione in vitro perché naturalmente la qualità ovocitaria è dipendente invece dall'età anagrafica, come pure il rischio di dare origine a embrioni cromosomicamente non normali. Quindi è chiaro che fino a questa fascia di età, se abbiamo comunque un antimulleriano di 0,5, 0,6, fare una stimolazione ovarica per poi fare un pick up e produrre degli embrioni, sì, che si può fare, che naturalmente ha una percentuale di successo, consona a quella che è la tecnica di fecondazione in vitro che è il suo massimo indicato. Quindi, un attimo, tu ci stai dicendo che anche con 0,5, 0,6, ma se sei sotto i 37 anni, 38, vale la pena provare? Sì, certo, assolutamente. E se una donna di 40, 41 vuole provare con un antimulleriano da 0,5, 0,6? Si può provare tenendo in conto naturalmente che in questo caso magari un unico ciclo di stimolazione non sarà sufficiente perché naturalmente passati 38 anni abbiamo un 85% di generare embrioni che sono cromosomicamente non normali. Quindi l'antimulleriano basso mi corrisponde ad avere un basso numero di blastocisti alla fine del percorso della fecondazione in vitro. Quindi io devo avere un pool di embrioni maggiore per avere poi alla fine, calcolando sempre questo 85% di non buoni come embrioni, la possibilità di avere l'embrione realmente cromosomicamente sano. Quindi sì che saranno eventualmente più stimolazioni per accumulare embrioni e fare poi una diagnosi preimpianto. La diagnosi preimpianto tu la consigli comunque quando c'è una riserva ovarica ridotta? No, dipende. Nel senso che se, come sempre, siamo sotto i 36 anni e non c'è un fattore maschile, allora si può anche evitare di andare a fare una diagnosi preimpianto. Sicuramente sopra i 37-38 anni sì che naturalmente la indico. Strano, eh? In due anni come cambia tutto. Allora, spendiamo due parole su questa riserva ovarica perché anche qui ci sono dei dubbi. La riserva ovarica si può migliorare? La riserva ovarica si nasce con un tot di ovociti e quelli saranno... Non si può fare nulla per migliorarla, cioè resta invariata e invece possiamo guastarla in che modo? Con uno stile di vita sbagliato oppure con l'endometriosi oppure, insomma, parliamo un attimo di riserva ovarica prima. Ok, allora, da questo punto di vista la riserva ovarica è, mettiamola così, un poco predeterminata per ciascuna donna. Perché, come hai detto tu prima, noi nasciamo con quel pool di ovociti che poi naturalmente mano a mano andiamo consumando. Quindi è inevitabile che da che iniziamo la nostra età fertile alla fine, naturalmente, dell'attività ovarica, la riserva ovarica si andrà depauperando. Ok, naturalmente ci sono condizioni da un punto di vista della storia clinica di ciascuna donna che possono accelerare il processo della riduzione fisiologica della riserva ovarica. Quindi sì, l'endometriosi è uno di questi, non in quanto endometriosi, ma il fatto che le donne che soffrono di endometriosi principalmente lo scoprono perché facendo un'ecografia ginecologica viene messo in luce la presenza di una cissa endometriosica quindi di conseguenza viene operata e togliendo la cissa ovarica è inevitabile che nell'atto chirurgico si possano togliere, oltre alla cissa, anche dei piccoli micro follicoli che stanno attorno alla cissa ovarica. Spesso e volentieri queste pazienti sono plurioperate, quindi chiaro che questo è un fattore, mettiamola così, di rischio per il depauperamento della riserva ovarica stessa. Ok, altro tipo naturalmente di condizioni sono eventualmente terapie oncologiche. Ok, però quello va da sé perché prima riuscire a salvare quella che è la vita e quindi fare quello che è il trattamento oncologico, però questo ha il suo effetto naturalmente collaterale su quella che è la riserva ovarica ed è per questo che ormai dal 2009 a oggi anche i colleghi oncologi informano le pazienti che prima di iniziare naturalmente la chemia o la radioterapia meglio preservare la propria riserva ovarica, quindi fare una vetrificazione degli ovociti che poi naturalmente qualsiasi donna potrà utilizzare successivamente. L'ideale sarebbe che tutte la potessero fare intorno ai vent'anni, il problema è che ha ancora dei costi elevati e che ancora non tutte sanno che c'è questa opportunità, soprattutto a vent'anni magari nemmeno no. Sì, questo discorso di cambio culturale, di informazioni delle nuove generazioni che si dovrebbe fare in età naturalmente scolare e naturalmente dare gli strumenti alle giovani donne di poter decidere di quella che è la loro progettualità di una maternità futura. Quindi sapendo che la migliore qualità ovocitaria ce l'abbiamo tra i 18 e i 35 anni, decidere naturalmente quando uno è nella possibilità di poter vitrificare, quindi mettere in banca i propri ovociti che potrà utilizzare come cure no. Perché nessuno di noi sa cosa ci riserverà la vita e di conseguenza se uno ha qualcosa di riserva poi può sempre utilizzarlo. Dall'altra parte, come dicevi tu, in Italia non è previsto come trattamento che passa il sistema sanitario, quindi è chiaro che si deve fare in cliniche private e comunque al suo costo, non è quello di una fecondazione in vitro, però naturalmente il costo non è così irrisorio. Ok? Quindi quello sì. Si può migliorare questa riserva ovarica? Allora, non si può migliorare la riserva ovarica, nel senso che non a tutt'oggi. Non esiste nessun tipo di tecnica che ci permette di rigenerare dei nuovi follicoli che sono naturalmente i contenitori degli ovociti. Quello che naturalmente si può fare è cercare naturalmente di farsi, appunto tra i 18 e i 35 anni, una valutazione attraverso un ormone antimulleriano per capire quello che è il proprio stato, naturalmente, della propria riserva ovarica in maniera tale che se uno è cosciente di quello che è il proprio stato, da questo punto di vista, decidere poi che cosa eventualmente fare. Altra cosa importante che magari spesso non si chiede alla mamma, alla nonna, alle zie, è loro a che età sono andati naturalmente in menopausa, perché c'è una predisposizione per la menopausa precoce. Quindi questo è importante che naturalmente le ragazze lo sappiano perché sia eventualmente un campanello d'allarme, ok? Quindi che tutta questa sfera non sia un tabù, ma che se ne parli tranquillamente in maniera tale che naturalmente poi si possa essere coscienti di quello che è il proprio stato, ok? Quello che può aiutare la condizione dal punto di vista della qualità ovocitaria in tal senso, chiaro, lo stile di vita aiuta, che deve essere uno stile di vita sana naturalmente, quindi evitare l'esposizione a sostanze tossiche, naturalmente evitare l'abuso del fumo, dell'alcol, un'alimentazione naturalmente sana ed equilibrata. Però è chiaro che questo, quello che è lo stile di vita, è un supporto, ok? Aiuta, però è chiaro che non modifica in maniera sostanziale quella che è la qualità ovocitaria poi che ogni donna ha. Ti voglio fare una domanda sciocca, ma che le donne che usano la pillola anticoncezionale sono meno soggette a una riserva ovarica che si deteriora prima? Sì, questo sì, perché? Perché naturalmente con la pillola anticoncezionale mettiamo a riposo le ovaie e quindi evitiamo che mensilmente noi andiamo consumando i nostri ovociti. Faccio un appunto, giustamente noi sappiamo che ogni mese produciamo, o meglio va incontro all'ovulazione, un follicolo solo, però non è che parte solo quel follicolo, ogni mese parte insieme a quello che sarà poi il follicolo dominante altri 800-900 micro follicoli per poi aiutare quello che sarà il follicolo dominante ad andare incontro alla propria ovulazione e rilasciare poi quello che è l'ovocita. Questi poi follicoli sono quelli che andranno incontro all'atresia, cioè a regressione, quindi non mai daranno origine a un ovocita che potrà essere utilizzato, ok? Quindi sì, nel senso si pensa che nasciamo con i nostri 800.000 follicoli e quindi di conseguenza ovociti e uno dice come mai, sì, 800.000 è un grande numero, come possiamo nel giro di un 35-40 anni depauperare così celermente la nostra riserva ovarica? Perché oltre a quel singolo naturalmente ci sono tutti gli altri che partono con lui, ok? Quindi sì, la pillola soprattutto se presa eventualmente in continua, cioè senza sospensione, aiuta naturalmente a mantenere maggiormente a riposo le ovaie e di conseguenza da un lato preservare quella che è la riserva ovarica. Senti un attimo, se questa riserva ovarica noi ce l'abbiamo, l'antimulleriano si può fare a qualsiasi età. Se noi ci nasciamo con un certo numero di ovociti, ad esempio si può prevedere e fare un esame a una bambina di due anni, di cinque anni, per capire come sarà la sua fertilità? No, perché ancora le ovaie a due anni sono in quiescenza, ok? Quell'ormone antimulleriano naturalmente ha senso farlo quando realmente le ovaie iniziano a lavorare, ok? Quindi da questo punto di vista capire quando inizia il sistema, o meglio l'asse, ipotalamo-ipofisi ovaie, a attivarsi come sarà quel ciclo ovarico di quella donna in particolare. Perché ci sono alcune donne naturalmente che sono maggiormente predisposte ad avere una doppia ovulazione. Quindi chiaro che ovulando doppiamente e magari per più mesi consecutivi questo produrrà un'accelerità nel depoperamento naturalmente della propria riserva ovarica, ok? Quindi questo io a due anni non lo posso sapere. Però a 13 sì? A 13 sì, normalmente si lasciano almeno i primi sei mesi, perché come tutti i sistemi ci vuole un poco di rodaggio prima che prenda il proprio ritmo. No, però sì, 15-16 anni tranquillamente si può fare. E sarebbe, per caso sai qual è il numero perfetto di una ragazza di 18 anni, di 16 anni, del suo antimulleriano? Allora, normalmente dovrebbe essere sicuramente maggiore a 6 nanogrammi su millilitro, ok? Perché ricordiamo che naturalmente sempre per convenzione noi, mettiamola così, categorizziamo le pazienti in base all'ormone antimulleriano. Quindi abbiamo quello che è l'antimulleriano alto, che è sopra i 4 nanogrammi su millilitro, ok? Tra 4 e 1, che sono per noi le pazienti che hanno una riserva ovarica normale, ma sempre riferito, diciamo così, alla fascia di età delle donne che afferiscono alle cliniche di riproduzione e tra 1 e 0, naturalmente, che sono quelle con bassa riserva ovarica, ok? Quindi una ragazza di 16 anni, di 18 anni, è normale che abbia un antimulleriano che sia sopra i 6, ok? Quindi con un alto potenziale dove mi bastano poche dosi di farmaco per ottenere il massimo del risultato, ok? Ovviamente se è a 2, lì diventa... Lì, già lì mi dice che è meglio che da lì a poco, a massimo un anno, si attivi per fare una vetrificazione, quello sicuro. Quindi tu sei una sostenitrice dell'antimulleriano anche per prevenzione? Sì, chiaro. Comunque è un forte indicatore? Beh sì, rispetto, mettiamola così, a quando ho iniziato io nell'ambito della riproduzione dove non c'era l'antimulleriano, c'era solamente l'antico FSH, ok? Chiaro, l'antimulleriano mi permette di capire quantitativamente quello che io ho, meglio, quello che le mie ovaie hanno da dare, ok? Da un punto di vista della riserva ovarica. Quindi sì, è assolutamente un parametro che è molto indicativo e che è utile per noi, ma soprattutto per le donne per fare prevenzione. Ok. In media, una donna di 40 anni con un antimulleriano 0,5, quante probabilità ha di restare in pinta con i suoi ovociti? Allora, ha una percentuale che va tra 1,0 e un 10%, ok? Perché il problema principale, come dicevo prima, è l'età anagrafica, ok? A 40 anni ho quell'85 famoso percento di possibilità di dare origine, naturalmente, a embrioni cromosomicamente sani, ok? Quindi con una riserva di 0,5 io mi aspetterò che se la risposta ovarica alla stimolazione è ottimale potrò ottenere una, due blastocisti di buona qualità, ok? Quindi analizzare solo due blastocisti, non dico pretendere, ma avere buone chance che una di esse sia realmente cromosomicamente sana è un po' bassa, ok? Quindi per quello la problematica principale è arrivare ad avere la blastocisti sana. Chiaro che io a priori non lo so, quindi gioco, mettiamola così, gioco sui numeri perché più embrioni ho e più ho possibilità realmente di avere la blastocisti sana. Ma queste, diciamo, questa riserva ovarica bassa, questi ovociti che restano, una volta un ginecologo che mi ebbe in cura mi disse, è come se lei sta raschiando il fondo, inteso come il fondo della padella, che mi colpì e rese l'idea, e quindi disse, la qualità è difficile che sia buona, perché sono gli ultimi. Allora, anche lì, dipende sempre dal discorso di tassi. Tu mi dici, ha 34 anni, con uno 05, non è sì che sono gli ultimi, però siamo sempre in una 34 anni, ok? Quindi la loro qualità, per quanto ultima, però sono ancora buoni, ok? E questo, i dati di questi ultimi, diciamo, 5-7 anni, dove naturalmente anche noi ci siamo adattati a quella che naturalmente è la situazione, che ci si è presentata con le pazienti naturalmente che arrivano da noi, ci ha permesso di capire questa grande cosa, che non è solo il valore dell'ormone antimulleriano, che ci predice quella che è la possibilità reale di gravidanza. Questa deve essere messa e contestualizzata con quella che naturalmente è l'età anagrafica della donna, ok? Quindi da questo punto di vista, non è che io sto raschiando il varile, ok? Sì, sono gli ultimi, sono gli ultimi che fisiologicamente l'ovaio può andare a reclutare e che possono avere la possibilità di dare origine a una gravidanza. No, mettiamola così, penso, è una notizia, ma non è tanta notizia nuova, quella lo sappiamo tutti, e i ginecologi che fanno la chirurgia ce l'hanno detto insieme agli anatomopatologi, quando viene fatta una anesectomia, cioè che vengono tolte le ovaie a una donna che è già in menopausa e l'anatomopatologo va a controllare se ci sono follicoli, sì che ce ne sono, anche una volta che è in menopausa ne abbiamo ancora un 500, però sono quei famosi follicoli atresici, quindi inattivi che non mi potranno mai dare un'ovocida che è buono per dare origine a una gravidanza. Ok? Ok, allora, rispondiamo a qualche domanda? Sì, certo. Ti va, tanto penso che abbiamo detto quasi tutto. Secondo voi potrei fare la PMA sul ciclo naturale, visto che ho 28 anni e una buona riserva ovarica? Allora, da questo punto di vista il discorso del ciclo spontaneo che si possa fare, si può fare. Il discorso è che il ciclo spontaneo ha tante incognite nelle varie fasi. Ok? Questo perché? Perché non so fino a che non vado a prelevare l'ovocida se quell'ovocida poi realmente sarà maturo, sarà buono qualitativamente per essere inseminato naturalmente con uno spermatozoo. Se quel l'ovocida è poi inseminato si feconderà e si arriverà allo stadio di blastocisti. Ok? Quindi, a 28 anni se la riserva è buona e non ci sono altre problematiche particolari, diciamo, il consiglio è prima di provare fisiologicamente. Ok? Se naturalmente ci ha già provato fisiologicamente dopo un anno, un anno e mezzo e non è successo nulla, allora sì, che è chiaro che in questo caso è meglio fare una fecondazione in vitro stimolata, basterà poco dosaggio di farmaco per ottenere naturalmente il massimo del risultato. Ok. Non esiste, questa è anche una domanda, sarebbe fantastico, un esame che indichi la qualità ovocitaria. Questa ragazza scrive se ho l'antimulleriano a 1, a 46 anni, i medici mi dicono che comunque la qualità sarà scarsa. Giusto? Giusto, corretto. Nel senso che non esiste a tutt'oggi un parametro ematochimico, quindi attraverso un prelievo di sangue come l'antimulleriano che ci predica quella che è la qualità ovocitaria, perché la qualità ovocitaria viene, diciamo, valutata dai biologi solo dopo che l'ovocita è stato prelevato. Ok? Dobbiamo tenere conto che l'ovocita quando è all'interno di un follicolo, o meglio, del micro follicolo, non è maturo. Ok? Durante la crescita del follicolo l'ovocita subisce quello che è un processo di crescita che in ultimo poi dà origine alla sua maturazione, quindi alla sua trasformazione da un punto di vista del corredo cromosomico fino a che diventa un ovocita in metafase secondo. Quindi è realmente maturo e pronto per essere inseminato. Ok? Quindi da questo punto di vista, essendo in una condizione dove l'ovocita non è maturo, io non posso poi sapere a priori come questo ovocita maturerà. Ok? Fisiologicamente. Invece c'è Robby che ci scrive stimolazione ovarica a 41 anni e due ovociti. Due stimolazioni con lo stesso medicinale. Dopo due mesi di pillola, sette ovociti tutti fecondati. Non ci ha detto che riservo ovarica? Allora, da questo punto di vista ci sono due cose da tenere in conto. Uno, ogni ciclo è a sé stante. Ok? Nel senso che ci sono cicli più produttivi, come dico io spesso e volentieri, e cicli meno produttivi. Ok? Prima ho parlato di un altro ormone che è l'FSH. Mentre l'antimulleriano bene o male rimane costante sia durante le varie fasi del ciclo, ma anche lo consideriamo più o meno stabile entro i sei mesi da quando è stato dosato, l'FSH invece si modifica sia nel ciclo che naturalmente cambia se io lo vado a dosare all'inizio della mestruzione tra un ciclo e l'altro. L'FSH in questo caso ci predice quello che come sarà quel ciclo. Se è un ciclo più produttivo o meno produttivo. Ok? Normalmente non andiamo a dosare a tutte le donne il valore dell'FSH al secondo o terzo giorno della mestruzione prima di iniziare naturalmente una simulazione ovarica soprattutto se la riserva ovarica è buona. Ok? Quindi si può capitare che se la riserva ovarica è buona da questo punto di vista la signora è stata particolarmente sfortunata che ha beccato naturalmente un ciclo dove la simulazione ovarica ha dato origine naturalmente solamente a due ovociti e invece con la pillola che poi sospendendola ha quello che è il cosiddetto effetto rebound ok? Gli ha dato la spinta poi e naturalmente era anche un ciclo lievemente produttivo ha un maggior risultato in termini di numero di ovociti recuperati. Ok. Diagnosi preimpianto possiamo chiedere al medico di farlo a 37 anni tre fivette andate male? Allora sì certo che si può chiedere a parte che c'è nella legge 40 una cosa che c'è sempre stata è che la coppia ha diritto a conoscere lo stato di salute dei propri embrioni ok? E conoscere lo stato di salute dei propri embrioni significa solo conoscere l'assetto cromosomico e questo si può fare solo attraverso la diagnosi preimpianto a maggior ragione naturalmente nella nostra amica con dei cicli falliti che non sono uno nemmeno due ma sono quattro chiaro che diarimenti diciamo è caldamente consigliato andare a vedere naturalmente se c'è un fattore embrionario quindi rispetto ad altre donne alla sua stessa età ha un maggior diciamo un maggior rischio di generare embrioni cromosomicamente sani o anomali rispetto a quella che è il tasso fisiologico dato solo dalla sua età anagrafica Un'altra domanda 39 anni antimulleriano 036 ho fatto due stimolazioni x con due embrioni ma non hanno atticchito meglio passare ad eterologa sì in questo caso sì nel senso che si potrebbe fare un ultimo ciclo di fecondazione naturalmente sempre che la signora abbia la voglia di reggere un'altra stimolazione ovarica un altro pick up però ben cosciente del fatto che uno se lo deve rifare che faccia la diagnosi preimpianto ok due naturalmente che comunque il percorso ha basse possibilità di successo ok mi chiedono se si può migliorare la qualità ovocitaria da questo punto di vista no quello che si può fare che si si dà di tanto in tanto sono degli integratori ad esempio a base di nositolo o di acido alfa-loboico antiossidanti sì che aiutano un pochettino però non è come dicevo prima non cambiano radicalmente quella che è la qualità ovocitaria di quella donna e l'alimentazione nell'alimentazione ci sono gli antiossidanti ok solo che per quello che si si sta in questi ultimi anni spingendo molto anche sulla figura della nutrizionista nei centri di pma per naturalmente far sì che la dieta sia naturalmente più varia e naturalmente comprensiva di tutti quelli che sono le vitamine e gli antiossidanti che sono naturali che poi quelli che prendiamo attraverso le compresse alle bustine è un supporto a quello che in teoria dovremmo noi introdurre fisiologicamente con l'alimentazione allora c'è un'altra ragazza che ci scrive che ha 32 anni un antimulleriano a 0,42 tre stimolazioni senza successo ma è fatta la conta dei forti mi hanno detto di passare a eterologa non ho speranze con omologa allora prima di passare a eterologa sì che farei in questo caso una valutazione di FSH LH ed estradiolo al secondo terzo giorno del ciclo con la conta dei follicoli entrari per vedere se realmente c'è una possibilità di avere almeno uno o due blastocisti con la stimolazione ovarica se ci sono questi estremi sì l'ultimo tentativo io direi che è meritevole dai Francesca poi facci sapere se succede qualcosa di buono quali esami fare per verificare l'arrivo della menopausa i disagi ormonali sono sufficienti? sì allora iniziamo a distinguere quella che è la condizione di perimenopausa che poi ci porta alla menopausa ok la condizione fisiologica di perimenopausa noi la possiamo notare con l'alterazione del ritmo del ciclo mestruale quindi quando iniziamo a vedere che un mese ci arriva la mestruazione dopo 20 giorni ci arriva dopo 45-60 giorni e magari questo perdura per almeno 6 mesi e da lì poi le mestruazioni iniziano a diradare ok da un punto di vista ormonare gli ormoni che ci permettono poi di predire o meglio di dirci e di confermarci che stiamo andando verso la condizione della menopausa sono FSH e LH ad estrogeni ok dove naturalmente sia FSH che LH devono essere sopra i 30 mille unità su millilitro e l'estradiolo in queste condizioni è inferiore ai 20 ok questo perché perché l'ormone che comanda alle ovaie di lavorare è l'SH quindi continua a essere prodotto da una parte del nostro cervello fino a che l'ovaio non risponde è comprensibile che naturalmente se l'FSH sale di conseguenza significa che l'ovaio non sta più lavorando quindi sta finendo quella che è la propria attività ok poi realmente per decretare quello che è lo stato di menopausa deve passare un anno intero senza nessun tipo di mestruazione Eole allora c'era una ragazza che ha scritto una cosa che era interessante perché era successo anche a me che parlava non la ritrovo mannaggia eccola qui a 42 anni sono passata in due mesi mentre aveva appena iniziato la prima simulazione da un FSH di 8,4 a 1 di 60 con diagnosi di pre-menopausa come è possibile in così poco tempo l'antimulleriano sempre sotto a 1 ovviamente allora è quello che dicevo prima nel senso che l'antimulleriano non mi predice quando io andrò in menopausa quando naturalmente ha dosato l'FSH ed era 8 era perché era il ciclo buono e quindi era quello che in teoria si doveva sfruttare per fare una stimolazione o per fare naturalmente ricercare una gravidanza ok quando naturalmente se il ciclo successivo l'ovaio ha deciso che ormai ha finito di lavorare lo decide da un momento all'altro come dire quando uno va in pensione da un giorno all'altro la pensione però una donna non va proprio in menopausa da un giorno all'altro se no così me le terrorizzi tutte non è che le donne come ho detto prima si decreta la menopausa dopo 365 giorni senza ciclo cioè dopo che dopo 365 giorni le ovaie non hanno mai lavorato quindi non è che però sì che c'è un momento in cui l'ovaio decide che non risponderà più a quelli che sono gli stimoli ormonali dati dal cervello di lavorare ok però devo aspettare perché questo non è detto può capitare che ci sia dopo sei mesi un'ovulazione spontanea però io questo non lo so ok ma ragazza squeloridana sei davvero una di noi a un cuore infinito certo siamo tutte uguali qui che valore deve avere l'antimolleriano per pensare alla menopausa in questo caso naturalmente o indosabile o inferiore a 0,1 e ribadisco l'antimolleriano nel parametro o meglio l'ormone che mi predice o mi dice se io sono in menopausa le ormoni che mi dicono se io sono in menopausa FSH LH ed estradiolo ok non smetterei mai di ascoltarla dottoressa mi sembra un complimento bello 35 anni abbiamo sforato ancora un'altra domanda tranquilla 35 anni ormone antimolleriano 2 e 84 3 blastocissi buoni primo tentativo di impianto fallito quante probabilità di successo ha? a 35 anni da questo punto di vista abbiamo un 50% di possibilità l'antimolleriano è comunque buono ok diciamo è un po' basso rispetto a quella che è la sua età però non è 2 2 2 2 3 4 e a 35 anni dovrebbe essere un pochettino più alto ok fisiologicamente però è buono nel senso che 35 anni ribadisco e 0,5 è basso basso ok però 2,85 abbiamo assolutamente possibilità eventualmente di rifare un altro ciclo di stimolazione di pensare eventualmente facendo altri esami di coppia quindi vedendo un attimino anche meglio la parte maschile se c'è qualcosa che devo andare a tenere in conto ok quindi non è una situazione critica ok quindi sì però a 35 anni possiamo tenere in conto che sicuramente trasferendo una delle altre due brazocisti la gravidanza ci può essere ok le ultime due domande 38 anni due fivet andate male ultima fivet prelevati 11 obli 7 fecondati solo una blastocisti cosa consiglia di passare a eterologa o provare ancora una stimolazione a un antimulleriano di 1.3 da questo punto di vista si rifare un altro ciclo di stimolazione ok andrei ad indagare in questo caso un pochettino il fattore maschile ok quindi vedere magari anche la frammentazione del DNA spermatico eventualmente un test di fish per vedere se naturalmente anche lo spermatozoo nel momento in cui mi va a fecondare gli ovociti mi va a produrre naturalmente degli effetti negativi e questo poi mi porta al risultato di una blastocisti sola partendo da 11 ovociti ok certo in caso di premenopausa è necessaria la terapia ormonale sostitutiva a 34 anni come mi devo comportare allora da questo punto di vista si è chiaro che uno se lo deve pensare o meglio ne deve discutere con il proprio ginecologo o la propria ginecologa questo perché naturalmente gli estrogeni che noi produciamo fisiologicamente sono importanti e hanno effetti su tutto il nostro organismo su quello che è il trofismo a livello delle mucose quindi quella che è l'elasticità della pelle naturalmente su quello che è eventualmente il rischio di avere osteoporosi da più giovani naturalmente per evitare eventualmente i sintomi di un'eventuale per i menopausa e menopausa quindi insonnia sudorazione notturna e quant'altro quindi chiaro che se uno vuole a livello naturalmente generale dell'organismo mantenere l'effetto positivo che gli estrogeni danno si valutare tranquillamente facendo previamente controllo al seno il rischio cardiovascolare che non c'è nessuna controindicazione per iniziare una terapia sostitutiva ok allora terminiamo con grazie per questa diretta la dottoressa è molto empatica grazie non lo dico io ho visto avevo capito che stavi leggendo allora io ti ringrazio spero che così le ragazze con questa riserva ovarica bassina abbiano le idee un po' più chiare ma sono certa di sì ti ringrazio molto Michela di nulla grazie a te Lorena e alla prossima alla prossima e buone ferie per chi le fa grazie faccio ciao grazie a tutte buona serata e insomma ci vediamo domani in qualche storia ciao 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 ciao